Benvenuti in questo nuovo video, io sono Bigiotto, oggi andiamo a parlare di Mila Laccio, io godo, godo come un porco E godo troppo Partiamo da questo presupposto, il gol di Cutrone non era regolare Così sono poi iniziato a dire, eh il gol di Cutrone non era regolare, gne 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 Il gol di Cutrone non era regolare, ma fatemi godere, godo 2 a 1 contro la terza squadra del campionato Squadra che ha battuto Juve, ha dominato contro l'Inter È una squadra forte, è proprio forte Ha dei singoli che sono veramente forti, da Immobile a Luis Alberto, a Milinkovic, Savic E tutti questi fenomeni qui Però noi abbiamo vinto, abbiamo vinto veramente Magari non molto meritato, perché primo tempo tutto nostro, secondo tempo tutto da Lazio Che ci ha veramente, con Sergei Milinkovic, Sergei Milinkovic da solo faceva tiri, colpi di testa Tutto, cioè da solo, praticamente ci ha dato una paura incredibile Poi Lulic, ti amo Lulic Ti amo Lulic, perché Lulic si è mangiato un gol Cross di Felipe Anderson, porta libera Va a beccare Donnarumma Lulic proprio, forever sei un must Allora, parliamo della partita, i voti Allora, Donnarumma, i voti solo del Milan ovviamente Magari qualcuno da Lazio Allora, Donnarumma, io direi, ottima, buona partita Insomma, anzi, ottima partita perché ha parato molto E comunque dà sicurezza Donnarumma Anche se il gol di Malusic magari si poteva anche evitare Però, comunque, abbiamo vinto Poi, allora, la difesa Calabria, migliore in campo Otto, meritato Corre sulla fascia Dalla fascia non passa nessuno Anche se in un'occasione è passato Felipe Anderson Che poi ha fatto il cross Milinkovic Ha tirato e salvataggio sulla linea di Romagnoli Quindi, solo in quel caso Poi, nella fascia offensiva e difensiva Perfetto Soprattutto con l'offensiva Ha fatto un assist, un cross perfetto La difesa Bonucci-Romagnoli Devo dire, è abbastanza normale Bonucci sembra sia tornato A giocare a pallone Romagnoli è una certezza in difesa Esploso quest'anno Quindi, onesto Antonelli, buono, veramente buono Antonelli Io, guardate, contro il La prossima partita Che se non mi sbaglio Se non mi sbaglio È contro l'Udinese Lo metterei titolare Perché se lo merita E Rodriguez Non ha convinto per niente in questa stagione Poi, centrocampo Che si è che si è tornato Che si è Veramente ottimo Corre a sette polmoni E sta giocando bene È veramente bravo Biglia Sembra anche lui sia tornato Partitella discreta Ma ha fatto qualche cosa di illuminante Ma partita Partita discreta Medio o buona Insomma Sia e mezzo Ci sta Molto Poi Jack Bonaventura Beh, Jack Bonaventura Ragazzi Sette Sette e mezzo Veramente buono Cioè, veramente Ragazzi Jack Bonaventura È un fenomeno Diciamoci la verità È Uno dei due fenomeni Che abbiamo in squadra Noi abbiamo due fenomeni in squadra Che si chiamano Suso E appunto Jack Bonaventura È magari un giocatore Che sta esplodendo Che si chiama Cialanogo Che sta tornando ai tempi Del Bayer Everkusen Comunque Allora Jack Bonaventura Sette e mezzo Fa un gol Veramente molto bello Anche se Errore di Bastos Un ottimo inserimento Un ottimo stacco di testa Poi del resto Anche Se non avesse fatto gol Partita veramente ottima Poi Esterni Suso Suso Veramente raga È fortissimo È proprio forte È il top player Di questa squadra Ripeto Insieme a Jack Bonaventura Veramente Incredibile È il solito Suso Cutrone Ragazzi Cutrone Ti amo Ti amo Cutrone Ti amo Hai segnato di mano Non me ne frega niente Hai segnato Ottimo inserimento Sul cross Di Calabria È gol Davvero Bomber Sta veramente Io ora lo metterò Il titolare Perché Se si sta conquistando Il posto Il titolare Non ha più Le giornate di squalifica Nessuna squalifica Per Cutrone A quanto pare Poi L'ultimo Cialanoglu Cialanoglu Benissimo È tornato Il Cialanoglu Che tutti noi conosciamo Un Cialanoglu Veramente forte Tecnicamente Fortissimo Quindi Assist È partita Veramente ottima È tornato Cialanoglu Quindi questo video Termina qui Spero che vi sia piaciuto Mettete un like Fasi visual Iscrivetevi Ciao Ciao